Si chiama Sherkill, si tratta di un'assistente di volo, un'hostess, così viene chiamata nel gioco tecnico che sta letteralmente avendo una viralità molto forte su TikTok grazie a dei video in cui va a spiegare a diversi followers tutti i segreti che sono nascosti dietro agli abiti o meglio gli outfit scelti da clienti di una determinata compagnia aerea la donna è un'hostess di Dallas in Texas, sta diventando virale sul TikTok il suo profilo social va a spiegare tutto quello che capita in aereo comportamenti strani, diversi passeggeri, domande bizzare segreti che possono nascondersi proprio davanti a loro attraverso outfit o meglio abiti scelti io vi consiglio di vedere i video di questa giovane donna straniera, non in italiano ovviamente perché vi riusciranno a strappare una riflessione su come gli abiti vengono scelti perché, in che modo, in che misura, in che maniera, perché, ripeto, vengono utilizzati bene, il video termina qua, la donna ha i capelli castano chiaro, gli occhi azzurri o verdi però è una bella donna, sicuramente sì ciao a tutti, una buona serata a voi da Leandro, un narrato italiano